La vita di strada è talmente dura e la morsa del freddo talmente forte che a volte non riesci neanche a pensare, ma noi andiamo avanti perché non abbiamo altra soluzione. Così uno dei protagonisti della protesta messa in piedi da un gruppo di immigrati che ormai da diversi giorni dormono accampati davanti agli uffici comunali in piazza del popolo a Cesena per rivendicare il loro diritto a essere reinseriti nelle strutture di accoglienza. Abbiamo tutti i documenti in regola, ha spiegato quest'uomo proveniente dalla Nigeria, che preferisce non mostrarsi in volto per paura delle ripercussioni che potrebbe subire la famiglia nel suo paese d'origine. Delle dieci posizioni di ieri, almeno sei possano essere le persone che rientrano nei centri. Nelle prossime ore, appena i documenti saranno portati in prefettura, siamo noi come uffici comunali che ci siamo resi disponibili a fare questo percorso e la prefettura li ha bagliati. Profughi che sono stati ricevuti martedì in comune, anche se ci spiegano, forse il termine ricevuti non è il più appropriato. Siamo dovuti entrare nel palazzo a forza perché nessuno ci ha chiamato per fare un incontro e soprattutto il comune non aveva la presenza di mediatori che potessero interfacciarsi con i migranti, per cui noi siamo dovuti intervenire anche in qualità di traduttori e interpreti delle loro necessità. A parlare una rappresentante di un gruppo di cittadini italiani che si sono fatti carico della protesta di queste persone, anche svolgendo il ruolo di mediatori con il comune. Per il momento due di questi sono stati rintegrati nella struttura di Borello, anche se la situazione, come spiega l'assessore Benedetti, è in continua evoluzione. Nel frattempo i manifestanti si dicono intenzionati a portare avanti la protesta. Io che cosa faranno questa notte non lo so, sicuramente non potrà arrivare una soluzione uguale per tutti nello stesso momento, questo è quello che possiamo dire con certezza al momento.